Ciao a tutti ragazzi, eccoci con un nuovo video action. La partita l'ho giocata con la cerata perché pioveva abbondantemente, con pantaloni Flectarn, ho utilizzato il mio SVD e come arma secondaria avevo la mia Tokarev, la TT33. Quindi vi lascio all'immagine che ho girato con due GoPro. Ciao! Ed eccoci partiti con la prima fase del gioco. Siamo in perlustrazione, lo scopo era raggiungere un ponte dove c'erano due tango in difesa, noi eravamo in 8. Nonostante fossimo in 8 contro 2 abbiamo avuto la peggio, ma lo vedremo tra poco. Qua come vedete sto giocando con il mio SVD della cima. È stata una giornata molto piovosa, molto bagnata. Infatti ho giocato con la cerata perché sennò era impossibile sopravvivere alle intemperie. Qui c'erano già alcuni momenti. Ecco, vediamo lì davanti il ponte che era da oltrepassare. Appunto c'erano due nemici in difesa. Io ero alla ricerca di un punto strategico per poter dare fuoco di copertura con il mio Drago. Vediamo qua c'è un canale che divide le due parti del campo. Come faccio per espormi? Noto il cecchino nemico che era lì in quell'angolo che purtroppo mi colpisce e ho la peggio. Quindi un mega fail nell'azione principale. Vediamo ora un'altra azione. Questa volta è in difesa. Qui carico la mia Tokarev. Ero io in difesa con altri due compagni contro sette attaccanti. Purtroppo, non conoscendo il campo, ho scelto un lato completamente sbagliato. Infatti se mi fossi messo da un'altra parte avrei avuto successo. Invece adesso vedremo che è stata un'azione un po' così. Nulla di che. Qua mi posiziono. Ecco vedete la doppia inquadratura con le mie due GoPro. Ecco lì proprio in questo momento era comparso il nemico che stavo puntando. Sparo purtroppo non lo colpisco perché avevo l'ottica purtroppo appannata. Bagnata quindi vedevo veramente poco e male. Non sono riuscito a colpirlo. Anche se gli sono andato molto vicino. Poi mi accorgo, tra un attimo, mi guardo sul lato destro. Intanto stavo tenendo puntato il nemico che non sono riuscito a colpire che si è camperizzato dietro quel grosso albero. Noto che stavano arrivando altri due dal lato destro che subito mi tirano dosso a raffica e anche in questo caso ho avuto l'appeggio. Altra azione nuovamente in attacco. Qui è un'altra parte del campo molto bella che costeggia il fiume. Dovevamo praticamente cercare una zona con un cannetto di bambù dietro cui si trovava una casetta. E qui c'erano di nuovo tre difensori da stanare. Ma non è stato assolutamente semplice. Infatti vedremo tra poco. Qua ci organizziamo su come muoverci. Potete notare che sull'SVD c'è la mia Ghillie Homemade basso costo che ho realizzato. C'è anche un tutorial, trovate nella descrizione il link per il video. Molto semplice, squallido ma funzionale ve lo assicuro. Siccome ci stavamo facendo molto vicini al luogo dove si trovavano i difensori, decido di passare alla pistola. Vedete lì davanti sono stati circa 20 metri, si intravedono i bambù, la zona più verde, dove appunto c'erano i tre nemici da scovare. Ecco che iniziano a sparare contro il mio compagno. Io mi accascio, sparo alla rinfusa. Sarò onesto, stavo sparando verso nulla perché erano super nascosti, non c'era possibilità. Qua serviva l'RPK con il drum per poterli stanare. Grazie a tutti per la visione e ci si vede col prossimo video action. Ciao!